Per la prima udienza si dovrà attendere oltre un anno. È stato infatti fissato al 14 gennaio 2021 l'inizio del processo per la bancarotta colposa relativa alle consulenze d'oro contestate dalla procura di Arezzo, un procedimento che vede seduti sul banco degli imputati 14 ex membri dell'ultimo CDA di Banca Etruria. All'appello mancano solamente l'ultimo presidente, Lorenzo Rosi, ancora processo, il vice Alfredo Berni e l'allora direttore Bronchi, quest'ultimi due già condannati per bancarotta fraudolenta. Tra gli imputati invece c'è Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, fino ad oggi mai stato rinviato a giudizio. Le consulenze finite nel mirino della procura che ha chiesto il giudizio con citazione diretta sono quelle che furono affidate per valutare, analizzare e poi avviare il processo di fusione con un istituto di elevato standing come richiesto dalle autorità bancarie, ovvero la Banca Popolare di Vicenza, ma che poi non si concretizzò. In totale furono spesi circa 4 milioni e mezzo di euro, consulenze che secondo la procura non furono solo inutili ma anche ripetitive e che andarono a gravare ulteriormente la già disastrosa situazione di Banca Etruria. Ci vorrà ancora del tempo invece per quanto riguarda il procedimento relativo alla liquidazione di bronchi per il quale la procura ha chiesto in un luogo a procedere, ma il GIP Piergiorgio Ponticelli ha deciso comunque di chiedere un supplemento di indagini per altri due mesi prima di pronunciarsi.